Abbiamo 18 centri che vanno da Genova ad Ancona, Pisa, Roma e Bari fino a Catania e in questi 18 centri con 22 sedi noi siamo presenti tutta la settimana per incontrare le persone che hanno bisogno di colloqui, di ascolto, di consulenza, di terapia. Sono attivi settimanalmente nei nostri centri tentago, gruppi di psicoterapia. Più di 3.000 persone frequentano le nostre sedi settimanalmente per avere una cura psicologica e un ascolto, un supporto ai propri problemi. Ci occupiamo di questioni legate allo sviluppo dei bambini, all'accompagnamento dei genitori nella gestione e nell'educazione dei figli. Facciamo supporto agli insegnanti e ai medici negli ambienti di cura. Ci occupiamo di adulti e di anziani nelle problematiche che riguardano la comunicazione e la soluzione di tutte le difficoltà che la nostra vita moderna complessa pone a una persona, a una coppia, a una famiglia nella vita quotidiana e nella progettualità, nel dare senso e significato alla propria esistenza.